Ciao a tutti ragazzuoli, qui il vostro Gianmi94 e bentornati sul mio canale oggi su Raoni e senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito Qual è il nome del protagonista? Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Vediamo Panuozzo! Diaco Panuozzo! Buonasera Abbiamo sentito le voci di una villa fuori città Dicono che sia abbigliata da un mostro, mostro, mostrissima Molto più carina all'interno Non me ne frega più uno, sono io O qui fa davvero freddo? Non me ne frega un cazzo Ehi, usciamo di qua No, cosa c'è che non va, Takeshi? Hai paura? E beh, sì Ehi, usciamo di qua Ho capito Così stupido Non è possibile che i mostri esistano, è scientificamente impossibile Bravo Panuozzo! Fai vedere la tua intelligenza! Bravo! Ehi, panuozzo! Ma perché? E vabbè Stai attento La porta è chiusa Va bene Oh, si è rotto un vetro Si è rotto un vetro Posso raccogliere qualcosa? C'è un piatto rotto a terra Ho trovato l'oggetto Scheggia di piatto Oh! Che ci devi fare con sta cazzo di scheggia di piatto? Niente Madonna, panuozzo Eh, mamma mia Apri le porte come un raggiato Dai, panuozzo, dai Dove sono tutti? Ragà Non fate i fetendoni Ragazzi Questi scherzi da mongoloidi Ragazzi Non si apre Madonna, ragà Dove devo andare? Dove devo andare? Chi cazzo c'è? Chi è là dietro? Apriti Apriti sedano Niente Madonna, ragà Ma è tutto chiuso, porca troia Se uno si sta cagando sotto Non può andare nel bagno Non si apre Mamma mia, ragà Un genio sto cristiano Un genio Fammi vedere Architettura, ragà Architettura moderna Oh yes, ragà Oh yes La porta è chiusa Guarda, non me lo sarei mai aspettato Una porta aperta Ma che stiamo a scherzando? Un armadio Apri? Come si apre l'armadio? Non si apre l'armadio Eh, vabbè Io dove dovrei andare? Non si apre? Va bene, panuzzo Abbiamo capito Allora E tu non so Va bene, panuzzo Va bene, panuzzo Calmati, dai Stai calmo, panuzzo Calmati Secondo me devo fare qualcosa nella stanza Che non è possibile Dentro a sta stanza Ma che scherzi? Che cazzo? Come si apre? Che cazzo è? Coglione Takeshi, fottiti Cazzo mi tremi, Takeshi Takeshi? Eh, tremi Che cazzo mi tremi? Dove sono gli altri? Vabbè, vaffanculo Vabbè, vaffanculo Nino Tangelo dei poveri Vai, vai Vabbè, bravo Bravo, panuzzo Manco tu capisci Che cosa cazzo sta succedendo Vabbò La porta è chiusa C'è tutto chiuso In questa casa Non si apre Vabbè Torniamo da Takeshi Takeshi Allora Ancora che tremi Taki mi hai rotto Tre quarti Già mi hai rotto tre quarti Takeshi Veramente già mi hai rotto tre quarti Guarda Non si apre Dove cazzo devo andare? Ancora sta là Va bene Takeshi Che cazzo mi tremi? Taki Madonna Che palle Che sei Cazzo vuoi ancora? Non trema Dimmi qualcosa Esimi a testa di minchia Parlami Habla Niente Niente La porta è chiusa Tua madre è chiusa Tu lo sai Sì Sì che è chiusa Sì che la sai Eppure raga Eppure Sono sicuro Bisogna fare qualcosa Raga Perché non è possibile Ma ho capito Esimia Dove devo andare? Mamma mia Takeshi Quanto ti odio Ho trovato lo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Mamma mia Otto ore per trovare una cazzo di chiave Ma va a cacare Ma vai a defecare Ma qual è la porta? Porca miseria Vedete che è quella giù? Io sono sicuro Io sono sicuro Che è quella giù Però non ci vado Vado qua Non è questa Non è questa Dove cazzo è la biblioteca? Madonna delle grazie Aiutami Non si apre Ma che curiosità Non si apre Si è aperta E che E allora E quindi E quindi Vabbè raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate E noi ci rivediamo In un prossimo video Bene ragazzi Ciao E poi che E quindi Bene ragazzi